Sono stati recuperati dai vigili del fuoco in buone condizioni di salute i due passeggeri dell'ultraleggero caduto sul versante teramano del Gran Sasso tra Intermesoli e Prato Selva. La coppia tedesca, un uomo e una donna, sulla cinquantina avrebbe riportato diverse contusioni e ferite nell'impatto con la vegetazione, ma al momento del recupero si è dimostrata cosciente. Il Drago 54 del nucleo elicotteri dei vigili del fuoco di Pescara è riuscito a visualizzare la carlinga dell'aereo nel primo pomeriggio e a verricellare a terra un soccorritore che ha agganciato i supestiti. Una volta a bordo sono stati trasportati a Pescara e poi, sui mezzi del 118, all'ospedale del capoluogo adriatico per le cure mediche del caso. Ancora da chiarire le cause dell'incidente, l'ultraleggero faceva rotta fra Spalato e Roma e sulle montagne abruzzesi ha iniziato a perdere quota. Forse per il forte temporale incontrato durante il volo, oppure per un guasto meccanico. Prima dell'atterraggio di fortuna, il velivolo fuori controllo ha perso anche il contatto radio con il centrovolo dell'ANAC. La donna però è riuscita comunque a chiamare il 112 prima dello schianto e a far scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. Sarebbe stata proprio la manovra d'emergenza, oltre ad un pizzico di fortuna, ad evitare loro conseguenze peggiori.